questo messaggio ci può aiutare a comprendere di più il lavoro delle entità e la visione che hanno di noi germano a starita noi vediamo la tua vita attraverso dei punti salienti del tuo percorso tutto ciò che avviene all'interno dei punti noi lo possiamo solo conoscere leggendo le vostre emozioni queste sono le vostre vicissitudini i conflitti e le scelte gli scopi del tuo vissuto sono invece i punti fermi quando essi saranno superati noi vediamo il risultato e verranno registrati sul tuo stato vitale o come vuoi chiamarlo dna raggiunti gli scopi tu diventerai nuovamente un filamento che porterà allo spirito la sequenza della tua incarnazione se dovessimo usare parole più sintetiche potremmo dire che la morte è il tuo esistere che ha portato il suo risultato al suo centro dati il filamento vibrerà e percepirà il suo vissuto rivedendo il tutto e così potrai affermare che la vita è stata una formula per ottenere il frutto della conoscenza e come è stato ottenuto passerà in secondo piano